Emergenza Brucellosi, nove focolai registrati dall'inizio dell'anno, preoccupati gli allevatori ragusani. Tagli ai collegamenti ferroviari, Trenitalia annuncia ulteriori riduzioni tra la Sicilia e il resto d'Italia. L'ultimo caso in ordine di tempo incontrata Palazzola con 25 bovine abbattuti nell'azienda Campo, una vera e propria emergenza Brucellosi con nove focolai registrati dall'inizio dell'anno, nonostante le rigide misure adottate dai medici veterinari, tra gli allevatori ragusani serpeggia, grande preoccupazione. Bonde evitare facili allarmismi, innanzitutto non sono stati nuovi casi in 20 giorni, ma sono stati nuovi casi negli ultimi tre mesi. È indubbio che c'è una progressione della malattia non aspettata e non auspicabile, ma non significa neanche che fare allarmismo, fare che è una situazione che non è sotto controllo, perché lo è assolutamente sotto controllo. Parliamo di Brucellosi. Come voi sapete la Brucellosi è una malattia che si trasmette dagli animali all'uomo, quindi rientra nell'ambito delle zoonosi ed è una malattia verso cui la sanità pubblica ha dimostrato da sempre una grossa sensibilità, nel senso che si organizzano delle campagne di controllo sistematico di tutti gli animali che insistono nel territorio e tutti gli animali al di sopra di un anno di età che vengono assaggiati per la presenza o meno del microorganismo e quindi garantire in maniera diretta la salute umana, nel senso che gli animali che sono risultati positivi vengono sacrificati e quindi si tende ad eradicare la malattia. Si sta procedendo che i servizi veterinari sono giornalmente impegnati in una capitale attività di prelievo del sangue di tutte le aziende che insistono in provincia di Ragusa, ma questa attività viene fatta in tutta la Sicilia e in tutto il paese e i campioni dei singoli animali identificati arrivano all'istituto superfattico che vengono esaminati per la ricerca degli anticorpi che indicano in maniera diretta la presenza o meno della malattia dell'animale. Ci vogliono delle restrizioni che fino ad oggi non sono state applicate, anche se la legge non le prevede, secondo me vanno applicate perché il territorio purtroppo è un po' diverso dalla pianura padana o da altre parti e quindi vanno applicate delle restrizioni che devono essere nuove, se no a oggi le cose che ci sono state non sono riuscite, quindi significa che qualcosa non ha funzionato e vanno riviste. C'è grande preoccupazione tra gli allevatori? Preoccupazione perché oggi quando un'azienda ha gli animali infetti e li deve abbattere non è sicuro che l'azienda di nuovo si rimetta a lavorare perché il periodo è bruttissimo, è disastroso, continuiamo poi a bloccare direttamente l'attività e è difficile che inizierà di nuovo a lavorare. Si riesce a capire benissimo quello che l'allevatore dovrebbe fare, la prevenzione che l'allevatore deve portare a termine, quello di fare attenzione ed eseguire proprio un controllo etico e su questo può anche esserci un dibattito, può anche esserci un qualcosa da debitare all'azienda agricola, ma non riesco a condividere come mai questi tipi di controlli ad oggi non hanno ricevuto nessuna efficacia. Non è immaginabile che un animale che possa partire da un'azienda sana oggi di Ragusa ha tutti i controlli dovuti anche perché il servizio veterinario effettua per legge quello che dovrebbe fare, ma non si riesce a capire quello che entra, chi dovrebbe controllarlo, l'allevatore va bene, ci dessero le condizioni per controllarlo o chi è proposto a controllare, perché purtroppo negli ultimi periodi e sapevamo anche quali erano i territori nel 2013, abbiamo anche visto oggi una mappatura dei territori colpiti da una percentuale altissima della Brucellose, abbiamo consentito affinché questi animali raggiungessero oggi la nostra terra, il nostro territorio, dove oggi in questo territorio si produce latte qualità. Quindi questo non è consentito, non è consentito a nessuno accusare solo e esclusivamente il mondo allevatoriale, che comunque ha le sue pecche e che metterà in atto in questi giorni, ma è anche giusto che insieme a questo deve esserci un controllo maggiore e assidio da parte delle istituzioni. La senatrice del PD, Venerina Padua, ha presentato un'interrogazione in qualità di prima firmataria assieme ad altri 18 colleghi al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per comprendere le ragioni che spingerebbero Trenitalia a ridurre ulteriormente, a partire dalle prossime settimane, le corse di collegamento tra l'isola e il resto d'Italia, attuando di fatto un'ulteriore penalizzazione infrastrutturale in danno alla popolazione siciliana. Appare del tutto inadeguato, scrive nell'atto la senatrice Padua, operare un'ulteriore riduzione dei treni a lunga percorrenza, ipotesi che produrrebbe null'altro se non ulteriori disservizi ai cittadini già penalizzati dall'assenza di un sistema integrato e efficiente in maniera di trasporto pubblico. Durante la legislatura in corso ho presentato come prima firmataria uno specifico disegno di legge, recante norme per il trasporto aereo agevolato e la continuità territoriale della Sicilia e dell'Isola d'Elba, assegnato in sede referente all'ottava commissione permanente del Senato della Repubblica il 18 ottobre 2013. Il disegno di legge punta a prevedere specifiche disposizioni per assicurare la continuità territoriale della Sicilia. La senatrice aggiunge che, in via generale, i collegamenti ferroviari in Sicilia appaiono decisamente insufficienti e l'attuale mancanza di alta velocità rende l'intero sistema regionale neanche paragonabile con quello di altre regioni italiane. Inoltre, la carenza di collegamenti ferroviari efficienti risulta oltremodo penalizzante rispetto alla prospettiva di un rilancio del sistema di mobilità pubblica regionale. Anche per l'anno scolastico 2014-2015, la Compagnia Carabinieri di Vittoria, nell'ambito del progetto Cultura della Legalità, ha organizzato una serie di incontri con gli studenti delle scuole medie superiori e inferiori presenti nel territorio della giurisdizione, comprendente i comuni, oltre che di Vittoria, anche di Comiso, Chiara Montegulfi e Decate. In particolare a Vittoria il comandante della Compagnia Carabinieri, Daniele Plebani, ha incontrato il dirigente scolastico, i professori e gli alunni delle quinte classi elementari e del quarto circolo Rodari e del secondo circolo Radice. Nell'occasione si è iniziato a trattare il tema della legalità, facendo comprendere il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal Carabiniere, con la proiezione di un video illustrativo delle funzioni dei reparti dell'arma dislocati su tutto il territorio nazionale. L'occasione è stato un momento di condivisione e di sensibilizzazione su tematiche di stretta attualità, facendo riferimento soprattutto agli episodi di vita vissuta quotidianamente dagli alunni, che numerosi sono intervenuti con propri interventi e con domande, supportati dal meritorio lavoro che giornalmente il dirigente scolastico e gli insegnanti fanno in questa scuola. L'incontro con gli studenti, il primo di una serie, che verranno protagonisti gli alunni delle quinte elementari nei quali verranno trattati vari temi, soprattutto quelli legati al bullismo e al cyberbullismo, nonché quelli afferenti pericoli derivati dall'uso di internet e dei social network. Inoltre, le medesime classi, nei prossimi mesi, visiteranno la sede del Comando Compagnia di Vittoria e avranno così modo di vedere il quotidiano lavoro dei carabinieri che operano nel territorio. Il sindaco Federico Piccitto, a seguito di previsioni meteo avverse legate a repentini cali di temperatura, ha attivato il Presidio territoriale della Protezione Civile Comunale per il monitoraggio dei punti critici. Si invitano per tanti cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti fuori e all'interno della città, di tenere precauzionalmente le catene a bordo dell'auto. La Protezione Civile Comunale segnere inoltre alla cittadinanza i siti di seguito elencati in cui potrebbero riscontrarsi maggiori criticità. Via Risorgimento, dal rifornimento Agip fino all'incrocio SS 194, via Monelli, via Dolarata, via Pestum all'altezza del cavalca ferrovia, via Archimede angolo via De Frassini, Corsi Italia zona Salesiani, via Epicarmo cavalca ferrovia di via Zama, bretelle laterale sottopassi compresi, rotatore di via L'Europa angolo via Proviscito, strada provinciale 13, Centopozzi all'altezza del sottovia, strada provinciale 194, Deibla Giarratana. Il Comune di Ragusa si dota del PAES, il piano strategico per l'energia sostenibile, 19 voti a favore e 6 astenuti, il piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Ragusa che passerà ora all'approvazione definitiva in sede Unione Europea. Obiettivo principale del piano, la riduzione complessiva entro il 2020 del 23% delle emissioni di gas serra nel territorio comunale rispetto al livello registrato quattro anni fa, efficientamento degli edifici, degli impianti dei sistemi di illuminazione, risparmio idrico, riuso delle acque non potabili, promozione della mobilità alternativa, riqualificazione del trasporto pubblico, produzione energetica da fonti rinnovabili con interventi legati alla diffusione del solare termico, del fotovoltaico e degli orti solari. Alcune delle azioni principali previste dal piano, i cui settori centrali riguardano la mobilità dei trasporti, l'edinizio sostenibile, le energie rinnovabili ed il risparmio energetico. Stimata complessivamente una contrazione di circa 50.000 tonnellate l'anno di CO2 rispetto ad un totale di 216.000 da tonnellate emesse nel 2011. Uno strumento essenziale, afferma il sindaco Federico Piccitto, perché si pone in netta controtendenza con le politiche sin cui eseguite da Stato e Regione su questo tema e che segna per la città di Ragusa una vera e propria svolta nell'ambito di uno sviluppo sostenibile che mira ad una diversa attenzione e sensibilità sul tema dell'ambiente rispetto al passato. Del resto, prosegue il primo cittadino, tutti gli indicatori ambientali a livello mondiale ribadiscono la necessità di un'inversione di tendenza in questo senso. Il Paes, per il nostro territorio, rappresenta il primo passo verso un'evoluzione decisa sul fronte dell'impatto ambientale, oltre a costruire un'importante e necessaria premessa per l'accesso alle varie fonti di finanziamento presenti nella prossima programmazione comunitaria dei settori di intervento. Alla formazione del Paes ha dato un contributo continuo e propositivo Movimento Città, sia tramite il Consigliere Carmelo Ialacqua, che ha partecipato attivamente a tutti i tavoli tecnici programmati dall'amministrazione per incontrare le associazioni artigianali e professionali. La lettura operata dal Movimento Città del Paes, presentato dalla Giunta, è stata articolata e consapevole della complessità del documento. Sono state anche evidenziate subito talune criticità, a partire da quella macroscopica dell'appostamento di ben 25 milioni di euro per l'attivazione di una ferrovia urbana.